Mi chiamo Lara Tresoldi, ho 23 anni e ho scelto questo master perché reputavo fosse il conseguimento più indicato dopo la mia laurea in lingua e letteratura straniere a indirizzo turismo. Le fiere mi sono sempre interessate particolarmente, ho lavorato precedentemente come hostess fieristica e congressuale e mi piaceva vedere quello che c'era dietro l'organizzazione di questi eventi così grandi e così complicati. Sono stata molto contenta di questa scelta, infatti ho avuto la possibilità di entrare nel retroscena di tutti i grandi eventi, dopodiché il mio percorso si è indirizzato più verso la parte congressuale. Attualmente dopo uno stage di sei mesi sono stata assunta a Fiera Milano Congressi, gestiamo il più grande centro congressi d'Europa che è il Mico. Sono molto contenta perché il 2015 sarà un anno molto interessante, ci saranno diverse opportunità e Fiera Milano Congressi sarà proprio dentro tutto il movimento creato da Expo e dal circondario.